Respiras lente, nerumorem facias. Non sono versi di Catullo, nell'inizio di una ringa ciceroniana. Si tratta di una canzone di Vasco Rossi tradotta in latino. La particolare idea è venuta al liceo classico di Eschilo di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove uno studente ha cantato l'intramontabile successo al bacchiare latino davanti a tutta la scuola. Quindi l'inizio della canzone, Respiri piano per non far rumore, è diventato Respiras lente, nerumorem facias. Sono appassionata di Vasco, racconta la docento resti, e agli studenti ho sempre dato temi sulla filosofia del rocker e di zocca. All'inizio di quest'anno scolastico, con la collega, abbiamo pensato ad al bacchiare un testo semplice che viene esaltato con la traduzione latino. Vogliamo che gli studenti si avvicinino alla cultura anche mediante la musica che è il loro linguaggio preferito. I ragazzi sono molto cambiati, hanno una visione della vita totalmente diversa, devono esibirsi, vogliono apparire. Noi abbiamo il desiderio che si avvicinino usando questo linguaggio e che vivano tra loro la socialità in maniera un po' più tradizionale. Inoltre il latino è considerata una lingua morta, invece noi in questo modo abbiamo voluto renderla viva, farla cantare dai ragazzi e appassionarla a questa lingua con una canzone del più grande rocker. Intanto l'iniziativa è stata molto apprezzata dallo stesso Vasco Rossi, che con un post su Instagram ha commentato, fantastico, complimenti.